Sulla polemica un po' innescata, sulle frasi di Farsolari, che poi sono state fondamentalmente smentite, insomma non sussisteva l'iniziativa. Assolutamente, ha già risposto Farsolari, ha già detto che Quarena, provvede a una Quarena, ha smentito. Ma se fossero veri sono gravi comunque come dichiarazione. E' grave che vengano prese delle dichiarazioni finte e vengano riportate sui blocchi, per fare polemica e attaccarci. Avete altro in mente per la scuola? Abbiamo tanti cosi in mente per la scuola e l'università. A qui stiamo andando a lavorare? Grazie. Buongiorno a tutti.